Ciao io sono Anna, e in questo video ti svelerò alcune anticipazioni della sop turca Endless Love. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Il destino disegna mappe complesse, fatte di verità nascoste e rivelazioni sconvolgenti. È proprio su questi intrecci che si fondano le prossime emozionanti puntate di Endless Love. Tufan, il giovane dal cuore coraggioso, avrà l'opportunità straordinaria di riabbracciare sua madre dopo anni di separazione e sofferenza. Questo incontro, colmo di emozione e speranza, solleverà finalmente il velo su anni di mistero e dolore, aprendo nuovi e inaspettati capitoli nella storia della sua vita. Kemal, l'uomo determinato alla ricerca della verità, compie un passo epico nel suo viaggio nel passato della famiglia Cosquoglu. Grazie alla testimonianza cruciale della signora Norsen, una domestica che conosce a fondo i segreti del passato, si apriranno nuovi sentieri di conoscenza che potrebbero finalmente illuminare i misteri celati da troppo tempo. Il momento culminante arriva quando Kemal svela a Tufan una rivelazione che cambierà per sempre il corso della sua vita. La scena dell'incontro tra madre e figlio, separati dal tempo e dal destino, promette di essere un momento di pura magia e commozione, destinato a toccare il cuore di tutti gli spettatori. Ma il destino ha ancora molte carte da giocare. Con legami inaspettati e segreti profondi che emergono dall'ombra, Tufan scoprirà che tutto ciò che credeva di sapere sulla sua vita e sulla sua famiglia potrebbe essere molto diverso dalla realtà. La verità sconvolgente che emerge tra le pieghe della trama, è che Tufan è cresciuto nell'oscurità riguardo all'identità dei suoi genitori, abbracciando un'infanzia segnata dall'amore del signor Acchi e di Asu, senza sapere l'epoca dei suoi veri legami familiari. Con destini intrecciati e rivelazioni eclatanti, Endless Love continua a tessere una trama avvincente che tiene i suoi spettatori con il fiato sospeso, ansiosi di scoprire quali altre sorprese il destino ha in serbo per i suoi protagonisti.